ciao ragazzi abbiamo aperto un box di eredità del valoroso e adesso apriremo le 24 bustine del box abbiamo già divise queste sono le mie e queste sono le mie chi inizia? sei pronto? comincio io dai! cominciamo con la prima vai insomma queste eredità a noi ci piace ci piace guarda pure il bel tappetino come tutte le spazioni e già questo è il ciccetto 1 vediamo subito che cosa ci viene fuori eh! fantasma trucchi eh si a pioggia fantasma trucchi un bel rituale oh toh c92 c92 beh vi ricordate il drago earth earth? già questa è la versione caos che infatti è il drago del caos earth earth forte gioco sei forte basta leggere basta leggere! fantasma trucco vedi? fantasma trucchi stanno andando molto forte eh? si saranno bene sono andando così apriamo la bustina e vediamo qui iniziamo subito con un mostro sincro ah mica ma ci fa sempre comodo un altro bello un fantasma trucco xyz raro si 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 ma questo lo prendo no? e poi altre carte comuni vediamo 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 anche molte carte pianta stanno tornando anche molte carte pianta con un mazzo silva si con un mazzo silva dai per fortuna dai stanno riprendendo fuori degli archetipi che erano un po' ci stavamo un po' dimenticando no? eh si un pianta una volta era forte ma con questo silva speriamo che torni ai vecchi fasti ah anche lui una carta maggiorara te la torbo la tagli te via mettiamola qua e va bene ecco qua un'altra bustina siamo alla quarta bustina iniziamo subito con questo bel lanciere mostri pianta ho trovato la stessa che hai trovato la testa? dai mettiamola sopra dai mettiamola insieme ohè niente fantasma trucco fantasma trucco ormai proprio anche là fantasma trucco buggin tutti i cronomalia tutti i mazzi che pego lo porta di avanti è carina come idea perché così almeno altri mazzi comunque cominciano ad entrare nel meta dei tornei anche si soprattutto quando hanno completamente rovinato le dì ecco la prima carta oh questa è pure che ha la luce eh prigioniero dell'abilità eh già è già non male ma io secondo me qui dentro ci trovo un bel ex ins ultimo vai scommettiamo andiamo veloci verso la rara che è un mostro rituale guarda io ho del drago fotonico ragazzi eh figo figo andiamo a vedere alza rango magico forza astarl astral astarl ragazzi astarl si leggere al contrario è molto facile molto facile con tutte le carte di yuki diciamo qua il drago fotonico dai che caruccio è corso veloce ma è corso veloce ma non fa niente ma noi siamo veloci siamo eh facciamo quest'altra sbustata vediamo un po' oh questo lo abbiamo trovato un pochetti prontè via te più nascosto caruccio te più nascosto ecco un bel ex ins oh anche lui cavaliere delle fate cavaliere delle fate ovviamente è un ex ins di tipo pianta si ho detto che questo pianta andrà a ruba pianta va pianta va torneranno anche carte vecchie tipo muri di spine pulinosi magari venga Mario fantasma trucco rituale combattente dodo dodo bobo bobo un giuramento raro e basta in realtà sono tutte altre carte comuni cronomalia vediamo eh vediamo fantasma trucco cronomalia fantasma trucco beh sì anche io comunque ho cominciato a vedere qua nei nostri tornei un sacco di mazzini si guarda sono loro contento molto molto morti buggin e queste carte pianta altra carta pianta non stavamo parlando c'è un grosso ritorno del pianto sono contento sì 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 ti ricordi era forte io giocavo quando c'era leone botanico leone botanico c'era belle carte pianta polverello bianco c'è un polverello espansione ecco le altre carte pianta la voglia non ce l'avamo già qua io me lo ricordo comunque ma la sua pianta era proprio vera figo vedremo poi come si sviluppa il meta ancora vai con quest'altra bustina leone 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 si questa la lascio qua perchè poi magari io conosco poche carte magari altri giocatori conoscono carte con nomi ancora più lunghi magari vi vengono a dire per commenti cioè se conoscete nomi lunghissimi delle carte scriveteci nei commenti questa è molto lunga questa è sta bella è un po' il position inter planetario purpura spinosa ma tanto andiamo avanti noi sì 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 andiamo avanti combattente do 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 un fantasma trucco babam un altro tempio nascosto raro ooo quella ohoho il nuovo numero 39 carinissimo ragazzi radici dell'utopia ultimate e ultimate che ne dite bellissimo ma tra l'altro è fichissimo cioè è proprio bello da morire ma i 39 sono tutti molto fichi porca miseria ah mi mettiamo ci stanno i nuovi custodi di tombe sì però questo mi piace ragà può dire te eh 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 no vabbè no 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 non lo tengo io non lo tengo io ma peccato andiamo con quest'altro pacchettino per voi ci piace che serio che è questo adò vado mi sei dato più bu sì no e altre carte comuni io intanto apro sì apri apri ma intanto le carte comuni le comuni sono fighe poi ce le guardiamo con più calma oh cronomalia eduale scatto drago oh guardate la carta uguale perché tu perché c'è una carta io dopo la subito la trovo nella stessa perché io lo sposto eh ma io mi ci metto un tsukuyomi cioè io vado avanti sai poco il gaggio è il tsukuyomi guardate bella carta fai poco il gatto molto forte per il mazzo buggin ragazzi tsukuyomi sì sì questo è ok veramente ok veramente ok lasciamo qui intanto io vado avanti che sono comunque carte comuni ecco il nostro silvano il silvano dai vabbè guarda che inseriamo un mazzo di silvano dai sì sì dai sì 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 esatto esatto allora fatta smatrucco eeeh papapam oh ah questa non la conoscevo manco io nikitama tanto ora trovo questo perché sicuramente eh ecco la secret kuribbo oh il barcobaleno oh che caruccio ragazzi guardate qua eh ci abbiamo pure un kuribbo al cobaleno non ci facciamo manca niente da questa espansione che carta devo trovare qua nikitama sì nikitama mi raccomando eh ci conto cronomalia fordellero bianco no ho trovato una carta bianca che ho trovato prima e ci abbiamo vediamo 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 niente niente peccato peccato vediamo un po' che cosa ci nasconde questa bustina konami fammi felice oh io becco sempre questo sto spadaccino sta sempre in mezzo zo oh un altro c92 un altro c92 un altro c92 caos di earth 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 a voglia oh un altro alza rango magico alza rango magico mega male e altri comuni che poi con calma io e giorgio ci mettiamo a guardare si eh ce ne studiamo tutte studiamo tutte bene bene bugie unità che è per il basso per il basso bugie vediamo dietro ci ha portato lì bello niente ce ne è abbastanza bello c'è la carta con il nome lungo ok stanno finendo i pacchetti eh eh si come si fa ma caspita 39 ma io penso che comunque sia può andarci ancora meglio certo giusto secondo me che ne dite ragazzi via vediamo un po' eccoci 101 no no guardiamo no vabbè ah vado 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 oh un altro silvano che carucci ah niente niente sta qua dentro il c101 sta là dentro sta là dentro eccola qua la sento mi sta chiamando andiamo avanti che è il ho trovato qui eh quello è ho trovato qui eh eh sì eccolo ma io ce l'ho trovato c101 no no facciamo vedere ah lasciamo vedere ragazzi vieni amici a casa quante foil poi altre carte si vanno eccetera allora vediamo un po' manca quattro bustine eh quattro bustine mettonali 501 pronti via senti io non ce la faccio più questo tipo questo ci controlla me ci controlla ma ce lo mettiamo un passantino girello fantasma trucco va bene va bene una volta io una volta te eh certo una volta te una volta io sempre io ecco la terza ultima bustina la sento pesante questa questa è pesantissima la sento pesantissima ho visto dei colori un altro drag over third si e niente e niente le sue tombe Silvana la C92 ha deciso che comunque vuole stare qua al negozio e noi non gli possiamo dire niente se non ok giusto è un bel il play set un bel play set di C92 con questo con solo il primo box l'ho detto si richiamare allora bugine guardiamo Cerbero tazan un altro Silvana un altro Silvana un altro Silvana un altro Silvana niente niente l'ultima bustina l'ultima bustina ragazzi dai oh ragazzi pronti fantasma trucco alternatore semi mistico se abbassi sui la voce non ti sentono più rituale drago Giorgio adoro abbassa rango magico e qui non lo alzano alzano la tassa niente e vabbè dai fa niente fa niente comunque 3 C92 3 C92 numero 39 39 prigionio dell'abinità ci abbiamo tsukuyomi asia alzaranghi alzaranghi si 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 sono box molto ricchi box che potete trovare sul nostro sito si www.laboratoriogiochi.it oppure potete venireci a trovare trovate anche qua siamo a Roma via Cassia 686 e andiamo a dare insomma venite tutti i giorni quindi insomma vi aspettiamo anche perché facciamo un botto di tornei mazza un botto quindi chi non è venuto deve venire e io mi piace ricordarlo ci sono venuti a trovare tanti ragazzi che comunque hanno messo mi piace che partecipano alla nostra community su youtube grazie grazie a tutti ragazzi perché insomma ci c'è ci state la forza per andare avanti e fare video ancora migliori ci siete venuti a trovare anche da fuori Roma ragazzi ma molto fuori Roma ci hanno fatto molto piacere si e insomma se non vi siete ancora iscritti fatelo potete cliccare da queste parti adesso non so e potete commentare anche qua sotto e mettere mi piace al video se vi è piaciuto così non lascia gustare a niente male e quindi ci vediamo al prossimo video al prossimo video ragazzi stay lab